Buongiorno, oggi si va a Verona, ma prima facciamo un colazione e poi Speroni nuove idee per l'agricoltura senza birra Siamo arrivati a Verona, la città nasce ai piedi dei monti Lessini, cioè sotto al colle di San Pietro Dove si può trovare il castello San Pietro con tutta l'avventura di Verona in cui probabilmente andremo dopo domani Speroni nuove idee per l'agricoltura senza birra Però anche tu non scherzi col ciocial Io sì, sono molto ciocial Ah, cosa stai facendo? Sto mettendo una storia sui ciocial Su che tipo di ciocial esattamente? Su Instagram Porca miseria Porca miseria Porca miseria Siamo arrivati all'ufficio turistico qui di Verona E adesso passiamo dentro a recuperare le nostre due Verona Card per fare il giro domani e dopo domani E in tutte le attrazioni fighe qua della città Francesca, Elena, Letizia ed Elisa Belli sono ricordati E Giulietta E Giulietta C'è un pello lì La barca là giù Cosa c'è a vedere lì? Voglio vedere che c'è quello di un numero di ritorno Abbiamo fatto il giro della città Siamo andati all'ufficio turistico a ritirare la Verona Card E adesso andiamo in hotel Perché abbiamo tre ore allo sbocco Cosa c'è una Jedi? Siamo stanchissimi Siamo arrivati qui in hotel Ci siamo fatti in una bella doccia E adesso è proprio tempo di buttarsi a letto Grazie comune di Verona Soprattutto grazie mille a Letizia Dell'ufficio di turismo Che ci ha seguiti Ed è stata molto molto disponibile Con la Verona Card potete fare il giro di Verona E vedere le attrazioni turistiche Tutti i siti culturali della città E della provincia in realtà Però noi ci soffermiamo sulla città Mi raccomando se vi è piaciuto questo primo episodio da Verona Vi chiedo di condividere questo video Nella speranza di far conoscere a tutti Questa bellissima iniziativa dell'ufficio del turismo di Verona Ci vediamo settimana prossima Ciao 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 Cosa fanno i nostri eroi nel prossimo episodio? Ciao Cosa fanno i nostri eroi nel prossimo episodio?